costine salsiccia e come vedete pollo disossato sarà tutto morbidissimo ragazzi ho inserito la carne nella tagine dopo che il sedano la carota e la cipolla si sono ben sciolti guardate che spettacolo nel frattempo aggiungiamo una bella manciata di sale generosa ci mettiamo un pochino di menta secca un po di sale viola affumicato basilico secco ed un pochino di cherry rosso andiamo a coprire guardate qua vi ricordate che l'altro giorno avevo raccolto i fichi dal mio albero bene per dargli quella nota un po orientale un po dolciastra li vado a mettere con tutta la loro buccia così sopra non sto a girare me li sistemo solo un po in maniera omogenea ordinata e vado di nuovo a coprire sono passati 15 minuti quindi i restanti 45 li facciamo con i fichi su ma ovviamente con i fichi su ma ovviamente e Grazie a tutti.